Come si fa a non essere mai più sottona per la vita? A risolvere il fatto che sei una pezza da piedi per gli uomini? E quindi a far diventare loro, tra virgolette, un po' pezze da piedi e tu invece sei quella che esce dalla doccia con i piedi bagnati. Visione. Anyway, in questo video ti svelo proprio questo, ok? Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, esperto numero uno delle relazioni sentimentali in Italia. Faccio questo da oltre sei anni. Sono laureato in scienze ed educazione della formazione con 110 e lode, forse non mi ricordo se mi hanno dato la lode o meno, quindi non vorrei fare misinformation, ma non me lo ricordo. E ho più di mezzo milione di followers tra tutti i vari social media, YouTube, Instagram, TikTok, eccetera. E allo stesso tempo ho fondato il Club Riservato, che è la startup fondamentale e principale rivolta e riservata solo alla crescita personale femminile. Anyway, oggi vediamo questo. Quindi vediamo come smettere di fare la pezza via di per gli uomini. Basta sottonaggio. Quindi prendiamo in analisi da questa persona quello che mi ha chiesto e quindi ti dirò esattamente quello che ti serve per smettere di continuare a fare la sottona. Dignità di donna. Questa ragazza mi dice, ciao Federico, un quesito in merito alla dignità di donna. Quanto essere sottona? Quando sei coinvolta è dura mantenere la lucidità, poi magari altri fattori di mancanza, il tempo, la logistica, costringono magari una persona a esporsi o a fare sacrifici quantitativamente più tangibili rispetto al partner. Dove sta il limite fra il lavorare per il bene della coppia e mantenere anche la mia dignità alta? Questa è una domanda molto importante. Brava questa persona ha chiesto questa domanda. Brava, questa è una bella domanda. Allora, mi devo mettere gli occhiali perché mi giro la destra, sono fotofobio, quindi sto facendo una sfilza di video risposte con gli occhiali. Mi dispiace, sicuramente vi perdonerete. Allora, per quanto riguarda la domanda di questa ragazza, è molto interessante perché devi tenere in considerazione un solo fattore di cui parlo forse all'interno del modulo 4 o 5 del corso Settrici Settilia, non mi ricordo. Ma il punto è che mantenere la lucidità significa creare un contesto e una situazione dove tu capisci che quelle cose che stai facendo sono contraccambiate minimamente. Allora, ci sono persone che possono fare le sottone, quindi tu puoi fare una sottona, puoi fare la sottona, ok? E va bene. Per, non lo so, cioè il 70% del carro, della coppia, lo porti avanti tu. Ti sta bene, perché poi non è più un discorso di io faccio questo e ottengo questo, ma diventa un discorso in ambito sentimentale di io faccio questa cosa, mi sta bene così. Cioè, quando questa ragazza diligentemente chiede dove sta il limite fra il lavorare per il bene della coppia e ovviamente perdere la dignità e quindi fare la pezza da piedi, sta nel mindset. Cioè, la vera essenza della percezione di essere una sottona o una zerbina con un uomo non sta nella tua capacità di bilanciarti all'apice. All'inizio sì, perché all'inizio tu osservi quali sono gli atteggiamenti che fa l'altra persona quando tu ti esponi e se contraccambia e quel contraccambiare ti sta bene. Ma dopo, quando arrivi all'apice, te ne sbatti altamente le ovaie, per non dire altro. Cioè, l'assetto mentale che adopero io non è più sto a controllare vediamo quanto fa questo per me o altro. Cioè, questa cosa per me adesso è inconscia, ok? Quindi manco ci devo pensare. Adesso voi ci pensate perché vi state riprogrammando, seguite i corsi, eccetera. Ma, secondo te, io sto là a contare se con la mia compagna o se magari in passato frequento ragazze e alla fine quando ho riprogrammato la mia mente non stavo lì che, ah, fammi vedere quanto ha fatto questa e la mia compagna no, c'era una roba che magari fai un minicec ogni tanto ma ti viene in automatico, no? Lo capisci. Lo switch finale, quindi la cosa top player proprio è quando proprio te ne sbatti le ovaie io me ne sbatto qualcos'altro cioè nel senso io lo chiamo un assetto stoico cioè stoico o, che ne so, buddista lo stoicismo è ateo quindi non c'è un'idea di religione è solo filosofia è una corrente filosofica quindi puoi prenderla in considerazione come neutrale quindi non parliamo di religioni ma semplicemente arrivi a un assetto dove tu indirettamente apporti valore alla coppia aggiungi valore alla coppia e migliori lo status di coppia poi se questa non è contragambiata o meno a te ne sbattere o vaie quando la cosa peggiore è deteriora l'unica cosa che ti interessa è che quando tu ti guardi indietro essendo di sbattuta le ovaie di che cosa succedeva eccetera puoi dire soltanto alla tua stessa persona fare così sulle spalle dirò ottimo lavoro sicuramente hai creato valore in quel contesto e hai fatto il massimo per creare valore purtroppo quella persona non era responsiva se tu arrivi a questo processo mentale che ti auguro di arrivarci e ci arrivi quando ti riprogrammi la mente con i miei contenuti quando tu arrivi a questo processo mentale che è quello che ovviamente ho io e questo lo porto come un badge se ci fosse una medaglietta che fa vedere che ho questo processo mentale me la metterei cioè tipo la collana delle medaglie dell'olimpiadi sei cioè è fatto cioè a posto toppato via prossimo ok che altro c'è da fare ok cioè si risolve la parte sentimentale che per me era un grosso gap proprio di vita cioè io soffrivo questa dinamica sentimentale questa cosa dove mi dovevo rapportare con le donne le ragazze soffrivo malamente questa cosa facevo le cose in contraccambio non ottenevo quello che volevo l'amore, l'interesse adesso sinceramente me ne sbatto no gli organi riproduttivi ma non perché sono cattivo perché semplicemente anzi aggiungo valore conosco una persona miglioro la sua vita faccio il massimo per dare valore e semplicemente vedo che se la persona non è responsiva io quando mi guardo indietro dico a me stesso nice job ok ci perde lei io ho fatto quello che volevo fare per migliorare e aumentare e far sì che ci fossero tutte le possibilità che il nostro rapporto si sviluppasse ma quella persona non era responsiva mi sciacquo le mani e passo alla prossima quando raggiungi questo status mentale secondo me hai raggiunto da virgolette non dico il nirvana che voglio vantarmi perché pure io ho i sentimenti cioè voglio dire però raggiungi una sorta di status di pace sentimentale nel momento in cui arrivi a questo punto sei risolta secondo me la parte sentimentale della Levi poi ci sono altri problemi tipo per me adesso la sfida è il business ok quindi ci sto impegnando su migliorare la mia parte di business lavoro e il profitto e quello e le tasse e il prodotto che serve al cliente cosa può piacervi di più come migliorare il vostro la vostra esperienza cioè questa roba tosta adesso io non l'ho risolta non sto cercando di migliorare il servizio i prodotti ho creato la piattaforma del club riservato per farvi star meglio ho visto un'altra persona che dice ah che bella la nuova piattaforma cioè capito sto cercando di migliorare queste cose quindi sto cercando di aggiungere valore la parte sentimentale non è per scialacquarmi e vantarmi ma l'ho tolta cioè me la sono tolta dalle palle adesso sto risolvendo altri pezzi della mia vita poi magari un giorno quando risolvo pure quelli porterò anche contenuti su quelli chi lo sa anyway that's it è semplice raggiungi questo status mentale come lo raggiungi con la riprogrammazione mentale all'ingurgito proprio dei miei contenuti che sono stati adattati apposta e strutturati apposta per fornirti quelle che sono le mie visioni le adotti le porti all'interno della tua mente come ti dico and that's it è finito grazie a tutti grazie a tutti